Sì, allora abbiamo organizzato un corso di Nordic Walking che si terrà nel comune di Casale Monferrato, tra l'altro la città di Casale Monferrato ci ha dato il suo patrocinio e faremo la presentazione proprio durante la fiera di San Giuseppe, giovedì 22 marzo alla sera alle ore 21 faremo la presentazione in cui appunto verrà descritto quello che prevede il corso che si terrà in 5 giornate e sarà un corso itinerante perché anche in questa occasione pur essendo dedicato all'insegnamento della tecnica del Nordic cercheremo anche di far conoscere alcune località di Casale, per cui la prima lezione sarà nel parco della Cittadella poi ne faremo uno al parco Ethernet, uno ci troveremo all'imbarcadero lungo il Po e quindi cercheremo anche di svolgere questività in questi posti particolarmente belli ma ahimè sconosciuti ai più anche tra i casalesi, per cui uniamo proprio la parte sportiva a quella più prettamente turistica locale.